Ho ricevuto diverse sollecitazioni a commentare l'annuncio della creazione, tra virgolette, di 21 nuovi cardinali da parte di Bergoglio il 30 settembre. Leggiamo da Vatican News. Francesco, al termine della preghiera mariana, ha letto l'elenco dei nuovi porporati, tra i quali i tre nuovi prefetti dei dicasteri curiali, vescovi, chiese orientali e drottrine della fede. Porpore per l'arcivescovo di Juba in Sud Sudan e per il vescovo di Hong Kong. Berretta anche al nunzio negli USA e al frate confessore Louis Dri. Ecco, perché non ho commentato questa notizia? Perché, come tutto quello che fa Bergoglio, è acqua fresca. Acqua fresca, cari amici. Forse, non so se ho chiarito un concetto. Bergoglio, non essendo il vero Papa, non essendo un Papa canonicamente eletto, in quanto Benedetto XVI non era abdicatario ma impedito, è un antipapa. Quindi, come antipapa, non ha il diritto di fare nulla, tantomeno di creare cardinali. Ricorderò sempre con grandissimo divertimento un episodio in cui, era il 2019, come sua abitudine, Bergoglio portò i suoi pseudo cardinali appena nominati a salutare Papa Benedetto XVI. Nel monastero Mater Ecclesi, illudendosi, poverino, tapino, che Papa Benedetto, benedicendoli, potesse avallarli in qualche modo. Una pia illusione, ovviamente. Anche perché quella benedizione, la benedizione di un Papa impedito, non è che ha molto valore, da un punto di vista canonico, per sanare dei cardinali nominati da un antipapa, è abbastanza assurda come cosa. E poi, con quella benedizione, Papa Benedetto poteva anche pregare per loro, benedirli, come si fa con degli infermi, con dei posseduti, con dei... Cioè, voglio dire, la benedizione di Papa Benedetto non per questo assume il significato inequivocabile di un avallo, di un'approvazione. Tra l'altro, ricordo con un momento di ilarità totale, quando Papa Benedetto nel 2019 disse a questi neo-pseudo-cardinali vi raccomando la fedeltà al Papa. Ovviamente senza dire quale, no? Vi raccomando la fedeltà al Papa. Insomma, sta diventando veramente una burletta. Più che naturale che questa porpora di nylon made in China sia stata offerta a Besa Mettuccio Fernandez, il sacerdote che è stato messo a capo di Castero per la dottrina della fede, e che naturalmente ha una fede, sì, però tutta sua, tutta personale. Vi inviterei ad andare a vedere lo stemma di Fernandez. Un tondo con una sorta di colomba stilizzata, una serie di raggi che riprendono pari pari l'illustrazione del Mutus Liber del 1677, con lo spirito di verità che spande la rugiada sul mondo. è stato un disegno di una bruttezza raccapricciante, ma soprattutto una rettura completa, totale, con la bimillenaria tradizione eraldica della Chiesa Cattolica. Ma loro devono fare così, loro devono dire la verità il più possibile, perché fa parte della credenza agnostica, cioè devono cercare di essere il più veritieri possibili, e quindi lui, non essendo un vescovo, non ha adottato il galero con le nappe color verde, che è proprio della raldica da vescovo. Quindi lui si è fatto un simbolo tutto suo, dai chiari rimandi esoterici, all'interno di un cerchio, ha rotto completamente con la tradizione eraldica ecclesiastica. Tra l'altro, io avevo fatto anche uno studio sugli stemmi dei neocardinali, neopseudocardinali bergogliani, e avevo individuato dei simboli paragonati agli stemmi dei cardinali di nomina pre-2013, con una preponderanza di galli, stelle a cinque punte, addirittura arcobaleni, addirittura barconi con migranti, ci sono degli stemmi di pseudocardinali bergogliani che hanno il barconcino con i migranti, con gli ometti neri dentro, altri con gli arcobaleni, insomma delle cose raccapriccianti. Però non si era mai arrivati a, come posso dire, eliminare lo scudo, lo scudo e il galero cardinalizio con le nappe. Chissà che cosa ne pensa quel Don Pompili che era l'assistente del cardinale di Montezemolo, araldista di Papa Benedetto, e anche questo Don Pompili era, diciamo, un esperto di araldica ecclesiastica, e anche lui, come il cardinale Montezemolo che assisteva era, diciamo, abbastanza critico contro i vezzi della nuova pseudo-araldica bergogliana. Comunque, non vi preoccupate di questi 21 cardinali, Bergoglio ne può nominare altri 20, 30, 50, 60, quanti ne vuole? Tanto non sono cardinali, quindi di che cosa stiamo parlando? rimanete sul pezzo, rimanete concentrati, neanche tanto sulla questione della sede impedita, perché ormai quella è stata dimostrata all'inverosimile, oltre ogni ridondanza. Rimanete sulla questione importante, perché non si riesce a far capire questa cosa? E concentratevi sull'informare gli ecclesiastici, meglio se di alto rango. Poi farò un podcast appositamente dedicato a quello che ognuno di voi può fare per salvare la Chiesa Cattolica. Grazie per avermi ascoltato fin qui, se potete iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, se potete mettete un like a questo o altri video. Vi annuncio che è stato appena prodotto grazie a dei volontari, sempre grazie a dei volontari Intelligenti Pauka in russo, che fa Pandancon, Dio e Sire in russo. Se avete conoscenze in quei paesi, in paesi dove si parla questa lingua, per favore diffondeteli. Grazie, un caro saluto a tutti.